Mi raccomando se non vuoi perderti nessun video su questo canale ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salute ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokemon Insurgence Randomizer Nazrox Sì raga, ormai non ho più i numeri degli episodi, lasciate perdere Comunque nello scorso episodio abbiamo scoperto la triste verità L'Augur è a capo del culto del cielo o comunque il culto che si dedica a Raikwaza l'ha risvegliato e ottenuto la fonte di energia eterna non solo ma è stato lui ad eliminare il primo Augur per delle motivazioni che secondo lui sono valide Ora solo noi conosciamo la verità ma nessuno di noi ossia me e Damian può parlarne Quindi ragazzi mi raccomando mantenete anche voi il segreto se trovate un cultista del cielo in giro non parlate con loro e in generale non dite cose alla gente in giro Mi raccomando lasciate un bel mi piace anche ragazzi per il ritorno di una cosa che ho qui in mano e che sul canale diciamo non appariva da molto tempo per la precisione da circa un anno e mezzo e sono ragazzi gli occhiali della verità originali ovviamente questa non è una sponsorizzazione a ottica avanzi come in molti mi diranno ma ragazzi ecco a voi Il potere definitivo Ora mi stanno storti perché c'è tipo le cuffie Però ragazzi questo è il potere definitivo Questa è la vera potenza Sono quelli originali come la forma di Necrozma Come la forma di Necrozma Quindi ragazzi d'ora in poi per una cattura utilizzeremo loro E ho fatto davvero un intro di un minuto e venti a parlare degli occhiali Raga entriamo qua dentro perché dobbiamo parlare con il capopalestra desiduai Che ci darà qualcosa Ehi Creepy ti ricordi di me? Sono Xavier il capopalestra Sì quel pippone allucinante che tutti mi dicevano Aiuto Creepy è fortissimo E poi invece ha mandato in capo Surskit È actually dei video In realtà vivo qui Che tu ci credo o no Dirigere la palestra VpX City è semplicemente un lavoro dopo tutto Ah non lo fai per passione non lo fai per i soldi Bravo Bravo non ti fotte un cazzo Degli iscritti, dei fan, degli allenatori Complimenti Ok perfetto sì ce l'ho la medaglia Dammi quello che mi devi dare Mi stai dando una bidrillite Non è una bidrillite Però mi hai dato una pigiotite Mi fa piacere Comunque ragazzi mi sono accorto che quella che avevo ottenuto un po' di episodi fa In realtà è la delta venusaurite Quindi solo per il venusaur delta Giustamente raga che genio che sono E nulla raga abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare qui Ah c'è tipo una signora a un certo punto Ah sì raga questa qua è l'altare È l'altare Il piedistallo Il coso dove c'era l'augur nel primo episodio No c'è tipo una vecchia in giro per questa città Che vi stuprerà No che c'entra qualcosa con gli ivi Però sinceramente io non ci ho capito Nugaz Ok data abbiamo affrontato Perfetto raga Presumo si prosegue da questa parte Perché altrimenti questa grotta qua è un po' fine a se stessa Cave of steam Ok perfetto Probabilmente ci troveremo qualche gioco gratu... Gratuitissima Qua abbiamo un errore Ok cattura Sì E beh Drapion Livello 40 Drapion raga è un ottimo pokemon Ok ragazzi Nello scorso episodio Abbiamo imparato Water rocet Ora con dragon pulse In teoria non dovresti morire Ok perfetto Raga voglio una fan art di qualcuno Che mi disegni Un rocket allo stato liquido Che attacca un pokemon Magari se riuscite Che attacchi uno spinda Vi prego Se me la fate non lo so Vi regalo la vita e te Vi regalo Metto in contest Gli occhiali Ovviamente scherzo Perché li ho pagati figa 200 euro Però nulla ragazzi Cioè sarebbe veramente spettacolare Comunque adesso cerchiamo di catturare Mr. Scorpion qua Che probabilmente lo chiamerò Tipo Tipo non lo so come lo chiamerò Uh abbiamo delle Duskball Utilizziamole raga Perché non usarle Vai Duskball è il tuo momento Io credo in te Io credo Eh vabbè Eh vabbè Io sono troppo forte Drapion Perfetto Femmina Come lo chiamo Scorpion Ogrescorp pokemon Ok perfetto Scorpion C'era un gruppo che si chiamava Scorpion Che ha fatto una canzone tipo Wind of change Ehm Ma si raga Chiamiamolo change Tanto che cazzo Che cazzo è Un elemento chimico Eh Ah si tra l'altro raga Oggi ho dato Il L'esame di chimica Adesso ve la racconto questa Praticamente La mia prof Scrive sul foglio di recupero Ehm Studiate Dalle verifiche No Quindi io Faccio le fotocopie Delle verifiche E me le studio Cioè me le studio Nel senso Le faccio durante l'estate In modo tale da assimilare gli esercizi Arrivo al Vulcano Ok Che cazzo Ma vaffa culo Ma tu ma putana Io non pensavo che mi sfidassi così Già non ci speravo più Allora Eliminiamolo poi raga Mi sono visto letteralmente Ho visto me che stringeva la mano All'altissimo Gesù Insieme ad Armin Ok Riprendiamoci Dicevo E nulla Cioè ho fatto durante il Durante l'estate Queste verifiche Facendo gli esercizi Che lei aveva dato Durante le verifiche E la verifica del debito Erano praticamente I remake delle verifiche Quindi io sapevo le soluzioni Quindi avrò preso tipo Nove Dieci Quando avrei preso Sette Otto In una verifica normale Quindi Yeah è andato bene Infatti sono a registrare questo episodio Perché è andato talmente bene Che l'altro esame Ossia quello di fisica Lo sto prendendo alla leggera E quindi sono qua a registrare un episodio Che in teoria non dovrei registrare Basta parlare di scuola Che già ricomincia tra poco Fatemi sapere raga Dove andrete a scuola Magari sarà la DDG del giorno Tanto ormai Cioè Ormai ho perso la Non so più che DDG fare raga Cioè nel senso sono totalmente A cazzo minchia Ho visto un coso là dietro Ho detto porco due Chi cazzo sei Invece era il mio laxere Che mi aveva preceduto Ok perfetto raga Non abbiamo ancora inaugurato Water rocet Ma alla fine di questo episodio Comunque nel mezzo dell'episodio Lo facciamo Ve lo giuro Wubat Ok perfetto Minchia se non muori Cazzo non Non ti rialzi neanche per sbaglio Dio bono Da fare a carcassa Per i piccioni Kingclang raga Il pokemon più forte del mondo Mamma mia Raga questo si che è forte Fa un club di Click Di click Questa è una pila Questa era una pila Fa un club di Klingclang Per piacere Fatevi avanti Visto che avete già Rotto le balle al Luke Mi dicono Ok max Livello 53 raga Ok Devo assolutamente riportare I pokemon a livello A tutti Allo stesso livello Perché Abbiamo un po' troppe discrepanze In questo momento Quindi mettiamo davanti Ono Così a caso Non ho ancora Non ho ancora capito Che cavolo serve Ipnosi fuori dalla battaglia Ma prima o poi lo scopriremo Io che provo a fare surf Sulla lava raga Sono una chicca Veramente Ok perfetto Affrontiamo l'uomo del crodino Che a sto giro Mi sembra un po' più Un po' più giallo Più tipo super saiyan Ok riolo Perfetto Minchia Non potevi A un pokemon migliore Non potevi metterlo però Perfetto Giù è morto A sto giro Non c'è neanche l'acqua Raga Quindi se svengo in live Nulla Lascio il canale a Luke Nel caso Se è resuscito Dalla password a Joe Così tanto per Per Così almeno risaniamo Un po' di conflitti Che ci sono stati Ok perfetto Allora Ehm Premettendo che io Mi cago addosso E abbiamo un po' di Mumu Milk Noi curiamoli Pokemon Curiamoli anche se Magari non serve Perché non si sa mai Come direbbe Un famoso Proverbio di Confucio È meglio Curare un pokemon Che Lasciarlo morire È meglio Sprecare un rimedio Che Sprecare una vita Grazie Confucio Per questi tuoi insegnamenti Comunque Sei sempre il migliore Allora Questa zona qua È utile Più o meno Non lo so Come Come Il Freno Di un pattino Che non penso esista Regi Attenzione Il ritorno È lui È Bocelli È venuto qua Questa battaglia raga La combatteremo un po' La cieca Perché Perché abbiamo Dobbiamo essere alla pari Del nostro avversario Per chi si ricorda Raga la Soulink Ma penso in tantissimi Hashtag Bocelli Nei commenti Per Il suo ritorno Ti ammazzo Il gatto Non provare mai più A bussarti La difesa speciale Grazie Ok Perfetto Sì Non volevo utilizzare Max Però mi costringono Avalug Ok Perfetto Oh Armin Come tal testata Raga qua è Un bijou Proprio come direbbero in Francia Porca troia Tu tua sorella Ma perché siete sempre così infami Oh Gesù E vabbè Niente Lui arriva ed è delta Io mi dimentico se Pre Dragon Rush Che cazzo è Drago Furia Ok fermi Fuoco Drago Roccia Drago Dio Cristo Drago Che cazzo sei Allora Se sei Roccia Drago Felix Dovrebbe Giocarsela bene No Sì Sì Dai Sì Ok Raga non gli faccio una sega Dai diminuisci gli staccazzo De defesa De defesa Non penso che sia Nessun dialetto Esistente in Italia Proprio Oh Felix Curati Mannaggia te Ok Sì sì Per un attimo Non so perché ho pensato Che Rock Blast Fosse di tipo terra Non senza una spiegazione logica Bello sto grid Porca troia Tu sì che sei un vero combattente Stone Edge Vaffanculo Stone Edge Sì ok Stone Edge Che non è Stone Edge Che è un'altra cosa Ok siamo arrivati alla fine della grotta Perfetto Ut Utira Town Cioè Utira Cioè Che tirano loro Ragazzi non fatelo Mi raccomando Non fate cazzate Allora fermi Siamo arrivati a Utira Town Ok Tutto normale Fere Oh le Grazie per il centro Poco Perfetto Oddio raga È un segno È un segno raga Li riconoscete questi rami raga Li riconoscete Sono apparsi una volta Nei giochi poco uno ufficiali E sappiamo tutti Chi c'era Ora Se le mie teorie Sono giuste E lo sono sempre Perché se hai visto raga Sono meglio di Saitonia La prossima cattura Sarà proprio lui E quindi TV mia Dammi il divino In giro chiamoci Per il divino Oddio non ci credo Ma ha mandato un segno Ma ha mandato un segno Non si è ancora palesato raga Ma mi ha mandato Un cazzo di segno Un cazzo di segno Ha mandato l'eroe Ha mandato l'eroe Il suo protetto La sua spalla Joe Frog No scusate raga Esiste però ovviamente Il divino ha bisogno Comunque di essere guidato Dall'allenatore forte E quindi dobbiamo conquistare La fiducia Di questo polivrat Di questo john frog Di questo eroe Quindi ipnosi Per piacere Cerca di Dai Eppure maschio Eppure maschio raga Sto male Lui E' l'eroe E' l'eroe Tu mamma Tu mamma Tu mamma la vergine maria Ma che cazzo Allora fermi Ok allora Devo assolutamente Switchare No perché Adesso io sto urlando Che eroe Che eroe Intanto lo sto Prendendo al culo Cioè Guarda che sei scandaloso Però Cioè veramente Ultramo Siamo a Undici minuti Dodici praticamente Sì Sì Raga Raga Voglio 300 like Voglio 300 Cristo Di like Signori John Frog Si scriveva così John vero John No Ok perfetto John Frog L'eroe Raga No 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 E' crashato il gioco Cioè mo Spiegami io Come faccio Oh 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 si è crashato Minchia Minchia Stavo male Mi son sentito male Avrei dovuto rifare l'episodio Raga Pensate che merda Ok Ok Ci piace Allora fermi Prima di esplorare la città Perché a sto punto Famo questo Raga Direi che Ma molto velocemente lo famo Direi che Mamma mia No mi viene da piangere Dicevo per il momento Non lo metto in squadra Perché è un buon team Però alla prima Guarda che statistiche Che bella cosa Guarda che bello 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 Sì Ok Non ha IVS in attacco fisico Però possiamo rimediare Con le IVS stone Non è un problema Sì Ti dovrò insegnare Water rocet Probabilmente Anche a te Però vabbè Dettagli Raga anche lui imparerà Water rocet A breve Ok Hashtag Allora fermi Che cos'è sta roba The marks Ah ok È vero L'avevo già sentita Sta cosa Forse l'avevo vista Da una live di Joe Che hanno messo La tomba di Wata Ok perfetto Ha smorzato un po' Il gameplay Però ci sta Voi non potete trovare Sti meccanismi Per non farli passare Cioè non è possibile Sì Zigzagoon Contro pochino Ma io gli tiro Cos'è che vuoi Cazzo sei Spiegami Ti do il mio slugman Per qualsiasi cosa Ma vai a fangulo Tu hai il tuo slugman Look at those two Controlling their Pokemon Their clear expert trainer Ma come sono Figliola Io non vorrei Andare contro I tuoi expert trainer Ma figa Ma figa Ci hanno uno zigzagone Un pochino Allora parliamo un po' Eh come Ti sembro familiare No mi dispiace Cioè a meno che tu Non mi abbia visto su youtube Chi è che mi dai tu Fore Sì Drillbull per ogni tipo Ogni pokemon di tipo drago Chiaramente Grazie No veramente Che scambio eco Tu Ti ho già parlato Non ne ho idea Sinceramente Sì ti ho già parlato Oh vecetta La moglie del roccia Traga L'abbiamo trovata Ok perfetto Ok Tu sei quello della knowledge Giusto Sì perfetto Mi piace Dai su C'è Pokemon market Aspettami Perché Oh abbiamo trovato il marito Perfetto Ciao Luke Come stai Dimmi qualcosa Have you ever seen the races in Sonata City No Cioè nel senso È una città un po' di pazzi Un po' sonati Per la Parlami 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 Come rocce Tra gli alberi Non so se vi è mai capitato Raga Che siete in giro In una foresta E sentite un Salve a tutti i reclute Che proviene da un ramo Ecco Questa canzone qua Che stavo componendo Proprio a riguardo Cioè proprio Per lui Comunque sono Sono sempre Ecco Trainer tip Talk to everyone Comunque sono sempre più convinto Raga di essere Cioè totalmente impazzito Sinceramente Allora Siamo a 15 minuti Questa casa qua Io l'ho visitata Sì Penso di aver visto Tutta la città Cioè è proprio La città più inutile Che io abbia mai visto Sulla faccia della terra Allora Fermi Fatemi vedere un attimo Il poche gear Pocche gear Proprio no eh Miara town Ma in teoria In teoria Ecco aspettate Perché non è vero Che abbiamo visitato Tutta la città Perché penso ci sia Una sorta di Altopiano qua sopra O qualcosa del genere Eh Che cazzo è sta merda Oh no 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 Tua sorella morta No Welcome to Utira town It's a beautiful place No la creepy è qui Ok perfetto Ok utile Sono felice di vederti creepy Ho saputo di quello che è successo Alla jade tower Questo è Terrificante È incredibile Credere che L'augur fosse davvero Il capo del Del culto del cielo Per tutto questo tempo Se If anything though That just makes What we are doing Even more Ah Ok Eh If anything Eh Ok perfetto Questo rende ancora più importante Il nostro Obiettivo In sostanza In sostanza In sostanza Remember a while ago When we first met Ti ricordi Eh Un po' di tempo fa Quando ci siamo incontrati Ti ho detto Dell'antica profezia Eh Riguardo ai pokemon Fata In sostanza Eh Questa qui È la Utira library Alla più grande collezione Di libri Della regione Eh Ho cercato Se ci fosse un posto Dove si potesse avere Delle informazioni O addirittura Avere quella profezia Eh Cioè pensavo Che un posto Per averla Potesse essere qui Tra l'altro raga Per catturare John Frog Ci siamo dimenticati Gli occhiali Della verità Anche per Drapion Ma perché Il loro potere Va dosato Sappiatelo Damien and I Are skimming Through the shells Abbiamo cercato In giro per le mensole Cercando delle informazioni Eh Ci piacerebbe Se tu ci aiutassi Ma prima Eh No Non mi affrontare Damien ed io Abbiamo dei mega rings E le mega evoluzioni Nel nostro team Eh Chissà perché Me l'aspettavo Tra l'altro Ho selezionato qualcosa Che non so cosa fosse Gerido Eh Questo qua mi sa Che è la sua mega Non vorrei dire Attenzione Dragon dance No 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 Eh Porco Diaz Oh Ha retto No Oh No Sei un coglione Sei un coglione Io ti cambio Ti cambio Mi fai cagare Non è possibile Una cosa del genere Guarda che roba Mi fa un male boy Addio Eh Forse Proviamo Ma porco Due critical addirittura Guarda che merda Guarda che figlio di puttana Allora Fermi Cazzo Questo qua Raga è terrificante Allora Hyper push Tra l'altro mi sa Che la usa anche lui Ah Gesù bambino Non usarla Non usarla Non usarla Ok crunch Fermo 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 Ok Poison jack Hydro pump Non critare Non critare Ok Ok ero tentato raga Di fargli provocazione Per non farlo attaccare Sarò sincero Glalie Ok perfetto raga Con Glalie Non posso rischiare Mandiamo Mandiamo Armin Mandiamo Armin Tra l'altro potrebbe essere La sua mega questa Mandiamo Armin con Iron Knight Ok è la sua mega Perfetto Allora Mega Glalie È abbastanza resistente È abbastanza brutto Freeze dry Che cazzo è Per un attimo Ho pensato a puro gelo Non so per quale motivo Però dovrebbe essere Freeze dry Non ne ho idea È bello Questo è forte Invece raga Questo è molto forte X-Cheersor dovrebbe morire Perché Sei una puttana E devi utilizzarmi Charm Mi fai diminuire La madonna Mi fai diminuire No mi fai diminuire La voglia di vivere Cioè se non fossi Se non fossi Su youtube Mi segherei Questo è stato bellissimo Questo è stato bellissimo E non ho vergogna Nel dirlo Questo è stato bellissimo Questo questo Anche questo è bellissimo Guarda uno spettacolo Muori grazie Ole Zru Minchia Minchia se sei forte Fra Minchia se sei forte Fra Via Rival no Rabbattuta Perché mi batti sempre Chiediamoci perché Perché dopo che Se ne sono andate Serena e lilli Dal team Devo un attimo Compensare Non posso credere Che io abbia perso di nuovo Come puoi continuare a battermi In ogni caso Demian e io Torniamo a cercare Se ci puoi aiutare E lo apprezzeremo davvero molto Facci sapere se trovi qualcosa di interessante Ok ho come l'impressione raga Che effettivamente io lo debba fare I just Tu mam DNA Alpha Bison Ok Fermi Ho ottenuto il DNA Del cultista Del cultista Sarà Sì Del cultista Dell'abisso Che posso utilizzare Per richiamare Perché Allora all'inizio avevamo utilizzato Quello del cultista Di Darkrai Quindi suppongo Che prima o poi Ci dovremmo infiltrare Nelle fortezze Per così dire Dei cultisti dell'abisso Ora visto che siamo a 20 minuti Raga E magari mi infilo nella libreria Cerco qualcosa Magari taglio Se ci metto troppo Così Oh di nuovo Che bella cosa Ehm Nulla Cioè Ehm Suppongo di dover trovare Un qualcosa Che segni il fatto Che il libro mi interessi Non penso di dover Veramente cercare In tutte le librerie Io parlo con la gente Un po' a caso Ehm Oh forse Cazzo sta roba Ah è la statua dell'Augur Figlio di puttana Tua madre troia Allora Forse addirittura Dovrei parlare Alle persone Good night lunatone Ok Possibile che io non debba Cercare effettivamente Un qualcosa che sporge Non si può andare Ok la porta sembra chiusa Suppongo Cosa Oh trovato Trovato L'ala abbandonata Ottima scoperta creepy Come avete fatto A non trovarla voi raga Scusatemi Oh cazzo Chi cazzo sei Ehm State andando nella sala Nell'ala abbandonata Posso chiedervi Che cosa vi interessa Ehm Stavamo cercando Un libro Veramente antico Ehm Siamo allenatori Stiamo cercando di buttare giù i culti E volevamo capire Di cosa parlasse la profezia Capisco Ehm Sareste sorpresi Di quante persone Cercano quella profezia Turisti Ehm Vi farò andare se volete Non c'è alcuna profezia là dentro Ma c'è Una sfera Luminescente Una sfera Che cosa intendi Esattamente E' lì da quando la libreria È stata costruita E' una delle più grandi Differenze Che It's only one of the many Different odds Ok Perfetto E' semplicemente uno degli antichi Pezzi di antiquariato Che ci sono nell'ala Per qualsiasi ragione Per 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 chissà quale ragione Le persone credono Che abbia qualcosa Che fare con la profezia Quindi provano A farla reagire ad essi Ho già visto Un sacco di persone Andarsene deluse Volete davvero Perdere il vostro tempo Ehm Beh Perlomeno potremmo provare No Ok raga Ho tagliato Avrò tagliato una parte In cui cercavo il libro Perché è inutile Però ci sono state Delle cose spettacolari C'è veramente C'era un libro Che si chiamava letteralmente For whom the bell doom stalls Cita i metallica Cita Dante Alighieri Insomma Una figata Ok Siamo nell'ala abbandonata Interessante Ehm You shouldn't be back here Oh oh Che cazzo sei No ok Cazzo raga Ma ci sono gli allenatori Raga Se ci sono gli allenatori Mi conviene stoppare Perché forse È un'ala del gioco Totalmente diversa Forse mi conviene Veramente stoppare E riprendere nel prossimo Se no l'episodio Viene troppo lungo Forse non avrei Effettivamente Dovuto farla Sta cosa Però mi son fatto Prendere un po' Pensavo fosse qualcosa Di veloce Non ho contato Che il gioco È insurgence Fatemi vedere Un attimo avanti E adesso Non so Vediamo Magari se c'è qualcosa Se c'è qualche altro Oddio cattura E vabbè Facciamo la cattura E poi stoppiamo raga Eeeh Non facciamo la cattura Raga Che bello Ehm Dite che Edward Lo butto giù Oh oh Grazie Grazie Tu sei che sei simpatico Minchia raga Se prendo anche Moltres Sto male Cioè veramente Se prendo anche Moltres Mi metto a piangere Allora Vediamo di fargli Ipnosi Ok Grazie Perfetto Raga dopo questa cattura Stop perché stiamo andando In un'altra ala del gioco Avrei dovuto evitarmela Sta cosa Allora Proviamo con delle ultrabol Così a caso Se lo prendo veramente Se lo prendo raga Voglio un hashtag Pokemon Master Qua sotto Un hashtag Pokemon Master Qua sotto Ok raga È arrivato il momento Alla fine dell'episodio Ci tocca Occhiali della verità A me il potere E già E già ha fatto Un giro in più E già ha fatto Un giro in più Vi dico solo questo C'ha Ancient Power Sto coso Non è per nulla male Sarebbe addirittura Un legionario nel team Cioè cattura Allucinanti a sto giro Duskball Dai ti prego Ti prego Ti prego Uno Due Tre Merda 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 Dai che ce la si fa Dai che gli occhiali Li sento Poggettvi un po' più sul naso Così potrete dare più forza Vai Dai Cazzo Due giri Devo aggiungere qualche Qualche Eh sì sì Tipo ad esempio Devo togliere Ono Che sta morendo Per dirne una Ok Stavo per scappare Se l'avessi fatto Probabilmente mi sarei suicidato Ah sì Comunque non so se avete notato Ho preso un chilo di pozioni Più o meno Allora sì Il video sta durando un'eternità Raga Lo so È colpa mia Per Chiedo venia Al gentile pubblico Hypnosi Dai Entraci Dio Ok Perfetto Cioè Entraci Volevo dire Hypnosi Contro di lui Non la pokeball Ora Entraci Vai Ultraball Forza Forza Io credo in te Tre giri Ce la si può Ce la si può Fare Ce la si può fare Uno Due Tre Dai che ci siamo Ci siamo vicini Raga Ci siamo vicini La sento La sento dentro di me Sento un Moltres nel mio box Lo sento Sì mi sta morendo Hypno E non me ne curo minimamente Allora vai così Curalo Perfetto Sta ancora dormendo Mi fa Porca troia Io devo smetterla di miscliccare Dio Allora Ultraball Sarà un episodio molto lungo Sì No Dai proviamo l'ultima Duskball Raga così Poi raga Utilizzo l'unica Timerball che ho Bello Utile cazzo Dai cazzo Dai dai Eh ho finito pure questi Ho finito pure questi Mi sa che non ce la famo A meno che non viene fuori Un miracolo Che adesso non sta nemmeno Dormendo Però raga Mi sembra assurdo Cioè sarebbe veramente Incredibile come cosa Se lo riuscissimo a prendere adesso No No non ci credo Io parlo anche Raga Capito Io parlo anche Non lo so Hashtag Pokemon Master Nei commenti Sto registrando Da 36 minuti Il video sarà venuto Di 30 Perché taglierò qualcosa A sto punto Ho molte Sneak name Raga lo chiamiamo Lo chiamiamo Lo chiamiamo Una fenice Una fenice Fenice Ehm Lo chiamiamo Phoenix Molto banale Ehm Sì dai ci sta Phoenix Ragazzi Io direi che possiamo Concludere qua Scusatemi la durata del video Togliamoci pure gli occhiali Del potere Che ci hanno aiutato tantissimo Vi ringrazio per la visione Scusatemi se è durato davvero tanto Non pensavo fosse così Finito sto posto Lo proseguiremo nel prossimo episodio Io spero che il video vi sia piaciuto Se è così vi invito Come sapete lasciate un mi piace Un commento in iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando Passate i social Per rimanere sempre in contatto con me E premete la campanella Tanto c'è ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video Questa roba qua Penso di averla Love in the time of Charmander Che è l'amore ai tempi del colera Questo Dante si Dante si inferrebbe Bellissimo A Tale of Mewtwo Cities Ok Perfetto The Old Man The Old Man and the Seas Sta male Nulla The Picture of Dorian Green Ninja Raga Adoro sta cosa Ve lo giuro Ve lo giuro La adoro La adoro Nooo Sto male Questa è bellissima Complimenti It's a book For whom the bell doom tolls Raga Sta cheat La adoro Scusatemi The Grey Questo Questo era scontato Questo era scontato Video chiamato Video games Nooo Ultra horror Depressing me The Adventure of Suckleberry Finn Raga Cioè qua ci vuole anche del genio Però capite Io questi Cioè io adoro The Catcher in the Rain In the Rain Sarà sicuramente War and Peace War and Pace War and Pace Così a caso Va bene Lorenzo Nooo Lorenzo Fa rabbia Lorenzo Fabra No Cioè io lo adoro Sto gioco War and Pace War and Pace Cioè doppia reference In Metallica Ma sto male